Allora adesso ha preso due poesie, due sonnette, un dialetto dedicato al bagnetto e che ha come protagonista il nostro signore Gesù. Come si chiama con il primo? Quando il nostro signore ha istituito la comunione, se ha la tavola con i due amici, e l'era non una cittacolazione, ma una senga con i fiochi e con i barbis, la pia al pan, la puccia all'albanietto, la distribuilo a tutti con duvizia e poi, perché portei sul giusto rispetto, gli ha detto, mangiate domino e letizia. Però l'albanietto ha assa suensi all'arren e l'oncle ha fatto, non signore, col galantone per fare che il sole lo digerisce bene. Adesso bevi tutti un bel bicicletto col buon, besti grammi, imparere vorrei vivere, specialmente se ti l'ha messo in due. Adesso ha preso in atto il sonnetto sul bagnetto, che è la continuazione al culo del primo. Quando l'ha brancato, signor Mauro Bunel, per agli oreggi e l'ha tirato l'usì, credimi adesso ti l'unico bel che l'ha permesso di aprire il cuo. Ma no, ma no, perdono, signor Gesù, ma mi piace scherzare, però mi vuoi tanto bene. Dimmi te che mi fai, mi lo sognè, a mostrare il pentimento e la virtù. In perciò che peccasti col bagnetto, col bagnetto farai la penitenza, ma dimmi, signor, sia benedetto. Dessano avanti farai il bagnetto, ma senza pudeilo mai mangiarlo, e non sa già che lo mangio i tuoi amici e i tuoi cugnià. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.